Mister Roberto Vagnoni, il campionato di eccellenza intanto sarà il primo a ripartire, il 13 c'è la Coppa Italia contro il Ponte Romano. Un campionato quello di eccellenza che si prospetta molto molto interessante con tante piazze importanti. Infatti è un campionato molto difficile perché sappiamo c'è l'Aquila, Vezzano, Chieti, Lanciano, non so che scuola farà, però sono una piazza importante. Quindi da prendere con le molle. Noi stiamo lavorando, certamente non siamo ancora pronti e completi, però sono convinto che la società fai tutto per poi mettere a disposizione a questa squadra dei calciatori che attualmente mancano. Un mercato iniziato magari un po' in ritardo rispetto alle altre società, ma che per adesso ha previsto tanti diversi colpi di mercato. Sì, abbiamo fatto una squadra tutta nuova, tranne qualche giocatore, qualche ragazzo fuori quota che è rimasto dall'anno passato. E quindi come sai bene, ricominciare da capo è sempre difficile, mettere insieme una squadra perché nel calcio c'è bisogno appunto di una squadra, capire le caratteristiche e forgiare i giocatori. E quindi tutto diventa più difficile, siamo partiti in ritardo, ci stiamo dando da fare, nel senso ci stiamo allenando, abbiamo fatto anche doppio 12 giorni. E quindi cerchiamo di farci trovare pronti e sappiamo benissimo che la prima giornata, come ti ho detto sempre, anche l'anno scorso è quella più difficile. E' quella più importante perché già da lì si traccia un percorso secondo me ideale, anche se l'anno scorso poi invece è stato il contrario. Però la prima giornata la ritengo importante perché poi tutte le squadre non arrivano mai al massimo e fare risultato, soprattutto noi, fare risultato la prima giornata sarebbe fondamentale. Vediamo dietro alle nostre spalle, nel reto società storica 1914, però a tutti è venuta spontanea una domanda, nel reto società importante, in eccellenza campionata importante, perché Roberto Vagnoni però che ha concluso di fatto al secondo posto la stagione Serie D è sceso di categoria? Sono sceso perché ho avuto due o tre possibilità e poi dopo quando poi si deve andare a fare sul serio poi non si è fatto niente, senza fare polemica, però adesso nel calcio non si viaggia a vele spiegate. Quindi le squadre che possono scegliere sono poche e molte squadre, ti voglio dire, non per essere polemico, però molte squadre magari prendono dirigenti che portano degli sponsor e di conseguenza questi dirigenti poi hanno il diritto magari di portare, di scegliere l'allenatore. Questo non significa che venire qui sia stato un ripiego, però sinceramente anche io calarmi in questa realtà, soprattutto quest'anno, mi è stato difficile, però poi quando si inizia a stare sul campo Roberto Vagnoni darà sempre il massimo. Anche se volevo aspirare a qualcosa di più importante, però evidentemente è andata così, ci può stare, adesso però dobbiamo buttarci in questo campionato e dobbiamo fare bene, come ti ho detto, perché è un campionato molto impegnativo e dobbiamo darci da fare.